Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite Battle Royale con una nuova challenge in compagnia di Los Amigos. E intanto sul suo canale uscirà anche un video sempre che abbiamo fatto insieme con un'altra challenge sempre molto simpatica che vi invito ovviamente ad andare a guardare, vi lascio il link in descrizione. Qui sul mio canale invece siamo andati a fare una cosa difficilissima, ovvero io devo riuscire a fare più kill di lui, cosa che quando giochiamo insieme penso sarò riuscito a fare pochissime volte, ma una challenge non è una challenge se non è una cosa difficile da fare, appunto se andrò a fare più kill di lui mi dovrà scioppare l'intero set del pollo, quindi speriamo bene. Tra l'altro una piccola cosa che devo per forza dirvi è che ci sono stati degli errori durante la registrazione del video, non ho capito bene cosa è successo ma praticamente il mio audio è nettamente più forte del suo e non ho potuto fare nulla per modificare questa cosa perché erano sulla stessa traccia e quindi anche per quanto riguarda l'editing non ho potuto fare chissà quali grandi effetti perché purtroppo lui rispetto a me si sentiva veramente più basso. È comunque godibile il video, semplicemente ho fatto i tagli e ho messo un po' di sottofondi carini durante la partita, però per il resto non ho potuto fare granché insomma. Niente, spero che vi piaccia comunque, lasciando un bel mi piace arriviamo almeno a 5.000 like per una prossima challenge che ci consiglierete voi sotto nei commenti, quindi mi raccomando ragazzi grandi idee sotto nei commenti. Vi aspetto anche i live su Twitch per il winter per la praticamente qualificazione a questo torneo di Clash Royale dalle 11, quindi vi aspetto su Twitch dalle 11, anche di quello trovate il link in descrizione. E niente ragazzi, buona visione. Sei consapevole che ti ruberò tutte le kill? No! Anche una. No! Lo s... Ascoltami bene. No kill. In questa challenge vince chi fa meno kill. No, no, no. Sì, sì, sì. E lo scordi che ti pago qualche skill. No, no, chi fa meno kill, capito? L'os... Io ho solo scudi. Eh, lasciamene uno. Il tuo amicone. Ah, collaborare dobbiamo collaborare perché se no... Qua altro che challenge a fare kill. No, non mi dire che hai gente perché io non ti posso niente ad aiutare. No, l'hai pure killata. Allora, eh... No, sì, no. Cioè, non capisco io. Eh no, perché... Cioè, sono contento che killi, però allo stesso tempo, porca miseria, capito? Allora, io c'ho un bibito... Vabbè, io mi faccio mini shield, mini shield scudo e ti lascio il bibitone a te. Io non ho davanti che non sa per pushare. Eh, io c'ho solo un caccia. Quindi... Devi provare a fare la fenomenata. Perché veramente io c'ho solo il caccia. E watch it, watch it, watch it. No, ma c'è il compagnolo. Eh, prova a venirti ad aiutare, ma... Ma il suo compagnolo è sparito o cosa? No, l'ho lisciato due volte. No, te lo volevo rubare. E invece? Che palle. Ma ce n'era uno che si è sloggato, eh. Se no, l'ho fatto anche un'altra case. Meno male, si è sloggato. E... Te lo puoi mettere subito il bibitone, oppure? Bibitone, qual è? Jack, Jack o...? Arriva gente, arriva gente. No, non sono riuscito a salire. Ok, una terra. No! Stavo ricaricando il caccia. Mi stavo facendo anche l'altro. Che pizzo. Oh, da dove? Ok, questa son contento che l'hai fatta. Perché se no stavo per morire. Il problema è che... Non mi hai dato tempo. Probabilmente è che... Cioè, il problema è che con questa kill probabilmente hai già chiuso la questione. Eh, tieni, do il Jack, Jack. Tieni. Vado dentro la cazza, c'è ancora gente. Eh... Ma è possibile che non c'è un pompo, o una mitraglietta per il povero Gigi? Guarda, trovo i cadavri. Non so, io c'ho... Tac bianco, puoi capire lo schifo. Eh, però almeno ce l'hai. Ok. No, 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 materiale. Sai che stiamo finendo il materiale, poi. Mica, mica mi è entrato un colpo. No, no. No, è riuscito a scappare dietro a me. Su, Arammo, me lo rubi pure, no? Ovvio, tutti e due. Eh, no, quello... Ah, lo fai addirittura rialzare per fare anche una kill in più. No, non ci credo. Ma quanto... No. Ma hai ucciso quello a terra o quell'altro? Quell'altro. Ah, vabbè. No. Che palle! Che palle! Yes, baby! Non ci credo. Eh, io sì sentivo qui. E di che sentite una cicchina? Ah, sì, qua sotto, qua sotto, verso il coso. No, a me già mi ha aperto... Sotto, 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 qui al motel. Alle casette distrutte. Solo che a me già mi ha aperto il coso. No, uno ha preso la frattura. Los, pushiamoci questo qui che è rimasto da solo. E' bianchissimo. Non ci credo. C'ho compagnia dietro di me. Ittato, ittato, ittato. No, Los, no, Los, no, Los, no, Los, no, Los, no, Los, no. Che palle! Cioè, ma sei stato rapido in tutti e due. Questo qui te lo stavo per rubare tantissimo, quest'altro che è ucciso di qua. Quell'altro te l'ho messo one shot io. No, in realtà gli avevo tolto solo lo scudo. Ok, ora posso giocare con più caldo. Sì, capirai, adesso l'hai chiusa proprio. Eh, raga, cioè... Vabbè. Ma qui però... Qui mi ha detto male, lo sai perché? Perché io non ho capito come. Mi ha aperto il deltaplano mezz'ora prima di te. Cioè, tu stavi tipo già per terra. Io stavo ancora in aria perché me l'ha aperto. Vai, Gigi, sei pronto? I'm ready. No, non ci credo, non mi è entrato quel colpo. Uh, l'altro sta verso il porto, diciamo. Ok, ma avviciniamoci a questo perché... Sì, 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 se riusciamo... Eccolo, ci mira. Eh, ma ha preso un volo. Ok, gli ho tolto 105. Gli ho tolto, scusa. È bianchissimo. Ok, sale sulla roccia. Sta andando verso il suo compare. No, sta facendo qualcosa. Aspetta che gli spara a compare. Ok, quello a terra. No! Oh, gli ho tolto 105 anche a compare. Andiamo, andiamo a prendere le fatture perché sono scappate. Ah, l'hai ucciso? No, eh no. Quello che stava a terra l'ho confermato. E chi è che l'ha ucciso? Eh no, io, io. Quello che hai preso col cecchino però. Mi è entrato l'eccio e a te è andato giù. Gli ho tolto 105, non so dove è andato. Cioè, l'ho visto andare verso di qua. Mannaggia, la miseria. Quindi tu hai hittato pure quest'altro? Sì, anche questo l'hittato. Ah, ok. Eh, peccato. Te potevo rubare pure quest'altro io. Ma dove li hai visti, quest'altri? Eh, 195. Ah, di qua. Ma allora, io ho visto la cecchina di arriva dall'altra parte. Lui, lui, lui. Perché ha la stessa skin. Eh, allora sarà lui. Se lo becco è morto perché le cose... 805 prima. Eh, a meno che non si è curato. Non credo, in questo secondo. Cosa mi spara a fare? Ti cura, appena. Guarda, è di over miracro. Guarda, è di over miracro. No, no, sto pushando anch'io. Eh, solo se non mi colpisse. Guardalo, guardalo. Tanto lui sta mirando a me. Lo so, tranquillo. No, non mi è entrato neanche un colpo. E' blu, eh? Può cadere. E' blu. No, è bianchissimo, non è morto. E' sotto, dov'è? Sì! Goto! Vabbè che tanto ormai qua la questione è chiusa. Oh, comunque non mi entrava un colpo. Ma uno che era uno, eh. Uff, ok. Eh, no, no, no. Ho fatto cadere da 300 metri e mi chiamò. Comunque, no, 8-3 non la recupereremo mai, ragazzi. Uh, qua. Eccolo qua. Uh! No, ma mi stavo mettendo il mini shield. Mi è partito il dito. Non fai. C'è altra gente qui da me, Loss. Sotto di te, sotto di te, no. Sì, sì, sì. Ma... Ma questo è invisibile? Aspetta su. Devo uccidere. Omicidio lui. Ah. No, sono uccidato. Sono dovuto scendere io perché quello lì mi aveva preso l'altezza. Oh, ma che è? Capito? Eh, ma quello è tutto un ferro. Io sto finendo il materiale brutalmente. Eh. Allora, ora lo butto giù quello. Ho preso un po' di danno, però almeno ho preso... Ok, quello lì penso sia morto. No! Non è morto! Come ha fatto a prendere solo 20 di danno? Non ci credo che l'hai killato tu. No, è l'altro, è il compagno. No, è incipinato. Mi posso aiutare adesso. No! No! Era... C'era il buco qui! Eh, quest'altra... Ma mica moriva questo? Ma... No, mi devono spiegare perché solo 20 di danno da lì? E quanta vita c'aveva questo? Vi prego. Cioè, io non ci voglio credere. Eh, sì. Deva 5. Però sei contento che comunque hai vinto tu? Ma volevo vincere anche la partita. Ma che volevi vincere la partita? Qua ci ha detto di un male clamoroso. Ma c'ha la panza sto coso. Cioè, la tartaruga è disegnata. Stavo volando. Sì, c'ha la panza. È panzone. Vabbè, dai, almeno è carino. Spero che ti piaccia il tuo regale. Che schifo. Questo succede se fai sfide con me. Beh, oddio, posso dire la stessa cosa di te, eh? Potrei dire la stessa cosa su di te, eh? Voglio dire. Comunque, ragazzi. È uscita un'altra sfida. Non proprio così. Leggermente differente sul cani di loss. Sempre molto, molto simpatica. Soprattutto alla fine direi simpatica, carissimo rosa amico. Che ne dice? No, no. Non sai di cosa sto parlando? Guardatevela, guardatevela. Guardatevela sul cani di loss. Ragazzi, lo trovate ovviamente in descrizione. Fatemi sapere se avete shoppato anche voi il pollo. Io... Sì. E niente, ragazzi. Lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale se è ancora stato fatto. Passate a loss. Per noi è tutto. Ci troviamo domani con un prossimo video sul mio canale. Ciao, raga. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.